In qualche momento ho pensato che... Che sto facendo qua? Mi chiamo Charlotte, sono della Germania, sono una studentessa tedesca. Studio le scienze storiche a Bologna da febbraio. Quando sono stata in Germania ancora dovevo fare molte cose per l'università e quindi non avevo molto tempo a trovare casa a Bologna. Era molto difficile, l'ho tentato per Facebook e per i gruppi e tutto questo. Avevo molti appuntamenti, dovevo vivere in un hostell, una stanza di sei a otto persone. Per un mese alla fine ho trovato una casa di un'agenzia. E' anche grande, ma siamo in nove nella casa. Ci sono cinque singole e due doppie, ma anche con tre bagni, una cucina grande e una sala. Quasi tutti di noi siamo studenti stranieri. Sì, la mia stanza costa 600 euro al mese. Ho pagato anche una cauzione, una caparra di tre mesi, quindi 1800 euro. Ora sto cercando casa anche di nuovo perché il mio contratto sta finendo. C'è possibilità di rinnovare, ma solo per un anno. Se voglio partire prima, devo pagare 250 euro. In tutte le città grandi e gli studenti in Europa è molto difficile trovare casa che non è gentile alla vita normale e che non capisco perché la politica, le comuni o non so che non fanno niente di questo.